Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo dell'apertura del diaframma e dello sfocato. L'apertura del diaframma insieme a tempo di scatto e ISO è uno dei tre valori all'interno della macchina fotografica che controlla l'esposizione della nostra fotografia, ovvero quanto è chiara o quanto è scura. Una quarta variabile è la luce presente nella scena che stiamo fotografando e che è esterna alla macchina fotografica. L'apertura del diaframma ci permette di controllare appunto il diametro del forro del diaframma all'interno del nostro obiettivo. Questo diaframma è una sorta di iride meccanico che si restringe o si allarga utilizzando un sistema di lamelle metalliche. Quando l'apertura del diaframma è più ampia, quindi il forro ha un diametro maggiore entrerà più luce nella nostra macchina fotografica portando a fotografie sovraesposte, mentre quando stringiamo l'apertura del diaframma, quindi il diametro di questo forro diventa più piccolo, la luce che entra nella macchina fotografica è minore e quindi le fotografie avranno meno luce e saranno sottoesposte. L'apertura del diaframma è rappresentata dalla lettera F con una sbarra oppure sulle macchine fotografiche semplicemente dalla lettera F. A differenza di tempo di scatto e ISO, i valori che utilizza l'apertura del diaframma non sono così intuitivi, infatti già se andiamo a vedere i numeri che vengono utilizzati abbiamo numeri con la virgola come per esempio 1.8, 2.0, 5.6, 8.0, 11, 16 e così via. Quindi già ricordare i numeri, soprattutto all'inizio può essere un po' difficile, ma la cosa che può confondere di più soprattutto all'inizio è il fatto che i valori sono invertiti, nel senso che valori grandi come per esempio F11 o F16 che ci farebbero aspettare di avere più luce nella fotografia in realtà indicano un'apertura del diaframma minore e quindi meno luce nella fotografia e quindi fotografie sottoesposte, mentre se vogliamo avere più luce nelle nostre fotografie e vogliamo alzare l'esposizione delle fotografie dobbiamo andare su valori più piccoli come per esempio 1.8 o 2.0. Quindi all'inizio soprattutto questo può creare un po' di confusione e dobbiamo, senza magari chiederci troppo perché, imparare che se vogliamo avere più luce nella fotografia dobbiamo andare su valori piccoli, se vogliamo avere meno luce nella fotografia dobbiamo andare su valori grandi e che i valori grandi indicano un diaframma più chiuso e i valori piccoli un diaframma più aperto. Giusto per curiosità vi faccio vedere l'equazione che segue il valore di f e il motivo per il quale i valori di f sono così strani e così un po' involuti. Nell'equazione che vedete qui sopra la D maiuscola indica il diametro di questa apertura all'interno del diaframma, la F indica la lunghezza focale e la N è il valore che utilizziamo nella nostra macchina fotografica. Vedremo in un episodio apposito e diciamo in un appendice opzionale perché questa equazione è molto importante nella fotografia ma vi basta di sapere che per questo motivo il valore di f è così strano perché essenzialmente è il denominatore di una divisione quindi per questo motivo funziona al contrario. Il modo migliore però per imparare e ricordare i concetti della fotografia è metterli in pratica e per questo motivo ho allestito questo piccolo set da questa parte del tavolo e qui davanti a me abbiamo un altro esempio che utilizzeremo tra poco. Per la fotografia ho già impostato la messa a fuoco e la composizione quindi possiamo concentrarci su che cosa fa l'apertura del diaframma nella nostra fotografia. Cominciamo con la fotografia a un 25 secondi di secondo f 4.0 e ISO 400 e vediamo come viene la fotografia. Ho impostato un ritardo di due secondi allo scatto così che sono sicuro non ci sia mosso e questa è la fotografia che viene con questi valori è correttamente esposta e la messa a fuoco è sulla studentessa in primo piano diciamo centrale nella fotografia. A questo punto da 4.0 ci possiamo spostare verso dei valori più grandi e come con il tempo di scatto lo spostamento di tre valori indica un cambiamento di uno stop quindi stiamo dimezzando o raddoppiando la quantità di luce e a questo punto possiamo bilanciare poi con gli altri valori quindi da 4.0 andiamo a per esempio 1, 2 e 3, 5.6 e scattiamo un'altra fotografia e quest'altra fotografia viene più scura perché come abbiamo detto valori più grandi di apertura del diaframma indicano il diaframma che si sta chiudendo. Da 5.6 possiamo spostarci di altri tre valori quindi 6.3, 7.1, 8.0 scattiamo un'altra fotografia e vediamo che la fotografia è ancora più scura, 2 stop più scura rispetto a quella iniziale e quindi 4 volte più scura. A questo punto continuiamo un po' ad andare verso valori limite facciamo 1, 2 e 3 andiamo a f11 e facciamo un altro salto 1, 2 e 3 e andiamo a f16. Scattando la fotografia f16 a questo punto il diaframma è diventato microscopico e effettivamente la fotografia vediamo che è molto più scura. Adesso noi abbiamo fatto un salto di 4 stop se avete contato, ci siamo spostati quindi 3, 6, 9, 12 volte di valore e possiamo recuperare questa perdita di 4 stop sia con gli ISO sia con il tempo di scatto e quindi per esempio con l'ISO possiamo andare su 2 stop più in alto quindi passiamo a ISO 800 e poi a ISO 1600 e poi anche con il tempo di scatto possiamo allungare di 2 stop il tempo di scatto quindi da un venticinquesimo andiamo a un tredicesimo e possiamo salire di uno stop e poi saliamo ancora e andiamo a un sesto di secondo e che siamo saliti di 2 stop. Scattiamo questa fotografia e vediamo che l'esposizione della fotografia è uguale a quella iniziale ma vediamo che c'è qualcosa di diverso nella sfocatura ma di questo parleremo tra un attimo. Torniamo adesso ai valori iniziali quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 quindi siamo a un venticinquesimo 4.0 e ISO 1, 2, ISO 400 e quindi questi sono i valori con cui abbiamo iniziato la fotografia. Riscattiamo questa fotografia giusto per sicurezza e vediamo cosa succede se andiamo su valori più piccoli di apertura del diaframma quindi da 4.0 ci spostiamo 1, 2, 3 a 2.8 e scattiamo la nostra fotografia e vediamo che la fotografia è venuta più luminosa. Allo stesso modo spostiamoci ancora di uno stop 1, 2, 3 andiamo a 2.0 e scattiamo la fotografia e vediamo che a questo punto la fotografia è venuta quasi totalmente bianca. se vedo su questo obiettivo in particolare posso andare ancora di uno stop più luminoso perché è un obiettivo che ha limiti a f1.4 e quindi mi scatto questa fotografia che è diventata praticamente bianca. Il limite diciamo di apertura massima quindi di quanto possiamo aprire al massimo per far diventare più luminose le fotografie dipende dall'obiettivo e non dal corpo macchina per questo esistono obiettivi più costosi che sono più luminosi e obiettivi un po' meno costosi che non raggiungono questa luminosità. Siamo arrivati a 1.4 come f e possiamo recuperare questi tre stop che abbiamo aumentato diminuendo per esempio l'iso di 1, 2 abbiamo recuperato due stop e accorciamo un po' il tempo di scatto 1, 2, 3 andiamo a un cinquantesimo di secondo e a questo punto se scattiamo la fotografia vediamo che l'esposizione è tornata a quella iniziale corretta ma anche in questo caso è successo qualcosa alla sfocatura e vedremo subito da che cosa dipende. L'apertura del diaframma infatti oltre all'esposizione influenza un altro importantissimo aspetto delle nostre fotografie ovvero la profondità di campo. La profondità di campo è l'area nitida davanti e dietro al piano di messa a fuoco. Questo vuol dire che cambiando i valori di apertura del diaframma abbiamo modo di rendere la zona nitida nella nostra fotografia più ampia o più stretta e per dimostrarvi questo concetto ho preso questi piccoli pupazzetti da un gioco da tavolo e li ho allineati come vedete in file che si allontanano dalla macchina fotografica. In questo caso per via dell'obiettivo il mio valore minimo di apertura del diaframma che posso impostare è 2.0 quindi questo è il diaframma più aperto che posso ottenere con questo obiettivo. Metto a fuoco l'omino davanti alla macchina fotografica e scatto la mia fotografia. Tempo di scatto ISO verranno impostati automaticamente e vedo che l'omino verde è a fuoco ma allo stesso modo sono a fuoco i due omini alla sua destra e alla sua sinistra mentre più si allontanano davanti e dietro a loro e più sono sfogati. I più sfogati sono quelli in primissimo piano rossi e vedo anche le ultime file più lontano. A questo punto vado su un valore più alto e per esempio vado su f8.0 scatto la mia fotografia assicurandomi che la messa a fuoco sia la stessa di prima e vediamo come viene l'immagine. Scattando questa fotografia vedo a questo punto che i personaggi verdi sono a fuoco ma cominciano ad essere a fuoco anche le due file gialle quella davanti e quella dietro e tutto lo sfondo comincia ad essere più nitido, un po' più comprensibile. Andiamo a esagerare con i valori andiamo a f22 che è il valore massimo in questo caso che posso impostare di f ed è quindi l'apertura del diaframma più stretta possibile che è quasi un foro millimetrico. Quindi riprendo la messa a fuoco con precisione e scatto la mia fotografia e vedo che in questo caso quasi tutti gli omini sono a fuoco addirittura quelli in primissimo piano che sono quasi attaccati all'obiettivo sono quasi nitidi e questo è uno strumento molto potente a livello creativo nelle nostre immagini perché ci permette di isolare alcuni soggetti o scegliere di rendere tutto quanto ben nitido e visibile per far vagare meglio lo sguardo di chi guarda una fotografia in tutti i dettagli. Ma c'è un dettaglio a cui dobbiamo fare attenzione ovvero che il piano di messa a fuoco, quest'area che possiamo anche un po' allargare con l'apertura del diaframma, si muove perpendicolarmente alla direzione con cui guardiamo con l'obiettivo. Questo vuol dire che se l'obiettivo guarda in questa direzione il piano di messa a fuoco si è allontana dalla macchina fotografica e per questo motivo a f per esempio bassi come 2.0 riusciamo a mettere a fuoco i personaggi che si trovano tutti quanti sullo stesso piano ma se noi scattiamo una fotografia simile a f 2.0 però questa volta la angoliamo, avviamo diagonalmente rispetto alle file e mettiamo a fuoco sempre lo stesso omino verde, se scattiamo la fotografia assicurandoci che non ci sia mosso, aspettiamo 2 secondi, a questo punto possiamo vedere che la cosa curiosa che è successa è che gli omini verdi a fianco di quello a cui abbiamo messo la messa a fuoco non sono più nitidi ma sono diventati nitidi quelli gialli perché se andiamo a vedere il piano di messa a fuoco che si muove in questa maniera, a questo punto sono quelli gialli a rientrare sullo stesso piano di messa a fuoco. Voglio concludere questa lezione dandovi una dimostrazione della potenza creativa e narrativa della profondità di campo e della messa a fuoco. Scattiamo una prima immagine come quella che abbiamo fatto all'inizio della puntata a un tempo di scatto di 1.25 secondi di seconda f 4.0 ISO 400 e mettiamo a fuoco la scolaretta, la studentessa davanti al professore e questa è una fotografia che mette di salto soprattutto questo personaggio quindi appena guardiamo questa fotografia il personaggio che ci salta all'occhio è questa ragazza con questa posa imbranciata e possiamo già immaginarci una qualche storia potrebbe essere il professore che la sta sgridando o qualcosa di questo genere ma guardate come cambia l'immagine se per esempio io abbasso l'apertura del diaframma vado a f 2.8 e compenso con il tempo di scatto e sposto la messa a fuoco non sulla studentessa ma avvicino la messa a fuoco verso il professore quindi facciamo in questa maniera e scatto la mia fotografia. Se scatto la mia fotografia improvvisamente la fotografia ha una storia diversa nel senso il centro della nostra immagine non sono più le studentesse non è più la classe ma è il professore quindi potrebbe essere non so una qualche descrizione della vita di questo professore. Ugualmente possiamo cambiare ancora di più questa storia se per esempio spostiamo la messa a fuoco su un dettaglio che probabilmente finora non abbiamo notato infatti mi sposto così e allontano la messa a fuoco fino a prendere l'ultima studentessa che vedo in fondo alla classe. Se scatto la fotografia a f 2.8 posso vedere che improvvisamente la storia di questa immagine non è più incentrata né sul professore né sulle studentesse ai primi banchi ma sulla ragazza che sta leggendo un libro in fondo alla classe e in questo modo anche questo racconta un certo tipo di storia perché descrive una foto di questo genere in viaggio più interiore vediamo questo personaggio che è concentrato a leggere non è attento ai dettagli intorno. Chiaramente sto facendo queste descrizioni di una scena con dei pupazzetti ma questa scena descrive un po' riassume diciamo quello che potremmo incontrare in una situazione reale se per esempio stiamo effettivamente scattando la fotografia in una classe o se siamo in una folla di persone utilizzando la profondità di campo stretta possiamo andare a isolare singole storie all'interno di un gruppo di tante persone o tanti dettagli. Infine se andiamo invece sui valori su un valore di profondità di campo su un f molto alto come per esempio a f11 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 scusate che conto ma altrimenti perdo il conto e quindi salgo di uno stop e poi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 così sono sicuro che sono i valori giusti e sono arrivato a un tempo di scatto di un sesto di secondo f11 e iso 800 a questo punto riporto la messa a fuoco un po' più vicino nell'inquadratura in questa maniera e se scatto questa fotografia improvvisamente vedo che la fotografia comincia a essere un po' più descrittiva generale a questo punto non ci stiamo soffermando solo su un personaggio ma stiamo cominciando a vedere un po' la fotografia nel suo insieme e questo è una delle caratteristiche di alcuni tipi di fotografia per esempio nella paesaggistica tendiamo a voler utilizzare valori più alti di apertura del diaframma proprio per avere un'area nidida più ampia e poter far vedere a chi guarda la fotografia tutti quanti i dettagli del paesaggio che stiamo facendo nella ritrattistica invece si tende a usare valori di apertura del diaframma più bassi quindi un'apertura più ampia per isolare il soggetto sfocare tutto il resto e così quando guardiamo la fotografia guardiamo subito la persona ritratta per questo episodio è tutto vi suggerisco di sperimentare con sia con la questione legata all'esposizione dell'apertura del diaframma e sia con la profondità di campo e questa area nidida e messa a fuoco perché sono concetti un po' difficile all'inizio da metabolizzare ma sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo quando scattiamo una fotografia e approfittate anche del fatto che questo è un video per fermare ogni tanto il video o ripassare alcuni pezzi per diciamo capire bene ogni concetto come utilizzarlo nelle nostre fotografie come sempre potete scrivermi su carlochiocciola player2.com per dubbi e suggerimenti potete seguire player2lighting su twitter o instagram a chiocciola player2 oppure su facebook a facebook.com slash p2lighting e mi raccomando visitate il sito di player2lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com slash forum grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alla prossima